al nostro fotografo ufficiale, Modestino Annunziato, oltre a questo pubblico di vedere tutto, magari se ci spostiamo e guadagniamo spazio al centro palco, anche per le foto. Ok, Anna Lucreazioni diceva Annunzio, ha un dolore di... Che dona un gioiello ad Enzo. Allora, è un bracciale in argento, è stato disegnato per lei, è argento 925, argento 925, in bagno oro rosa. I due bracciali si uniscono in un segno di infinito all'interno. Esatto, è quello che è fatto. Perfetto, affinché l'emozione di questa sera sia infinita per lei come lo è per noi. Grazie, a tutti e molto. Eccoci qua, grazie, grazie a Anna Lucreazioni, poi c'è l'associazione Le Mulle e una donna che hanno un cappello fatto a mano per te. Non è fatto a mano, è stato donato da una socia, perché noi siamo un'associazione che opera sul territorio con manufatti fatti personalmente da noi, che mettiamo in vendita per poi poter aiutare le donne in difficoltà. Questo è un dono per lei da parte dell'associazione. Grazie, grazie maestro. Grazie Enzo Gragnanillo per essere stato con noi alla quattordicesima edizione del Festival Nazionale del Teatro di Casa Marciano. Eccoci arrivati al gran finale.